l'ultimo pagellone del sei nazioni duemilaventiquattro e allora Crutch Bind Set benvenuti cari amici del canale Dampa Dragby godiamocelo godiamocelo questo pagellone perché è ovvio che quando insomma i nostri giocano bene c'è più gusto c'è più gusto ma iniziamo subito bando alle ciance come si suol dire e allora come sempre da chi iniziamo se non da lui da Danilo Fischetti allora ragazzi partita monster partita mostruosa del fischio eh il fischio ha fatto un bel torneo era già enorme in tutto prima di questa adesso ci è giunto in quest'ultima partita anche un dominio evidentissimo in mischia chiusa e una grinta e una grinta spaventosa no? La porto io ha detto un certo momento otto e mezzo fischio otto e mezzo a parte gli scherzi lo abbiamo visto anche arringare il gruppo lo abbiamo visto uscire dalle mischie veramente cattivo ma che bella partita di Fischetti che bella partita di Fischetti otto e mezzo con il numero due con il numero due il Mulo Nicotera altra prestazione da team of the week nel senso che è entrato nei eh nelle squadre della settimana di vari vari opinionisti e tra l'altro è entrato anche nelle squadre del torneo in alcune pagine ehm un grillo talpone all'inizio molto ma molto ma molto importante tantissima energia in difesa in attacco abbastanza preciso al lancio dove non arrivava lui rimediava Ruzza eh ecco gli sfugge giusto un passaggio in uscita da Moll per menuncello quando poi Tommy lo lo prende basso e fa quel passaggio in mezzo alle gambe recuperato poi da Garbisi comunque ottima prestazione e anche per lui ottimo sei nazioni sette e mezzo Simone Ferrari ok lo avevamo detto tornava da un periodo di due mesi fermo eh finito questo tour de force di partite dopo il ritorno tre con la nazionale una con treviso e tutte prestazioni maiuscole compresa questa da sette e mezzo adesso si riposa un po' Simone uh non ho cambiato la non ho cambiato la la l'immagine eccolo qua eccolo qua il nostro Simone Ferrari con il quindi sette e mezzo e ehm grande torneo con il numero quattro con il numero quattro abbiamo bam Nicolo Cannone insomma quello che abbiamo detto per Simone Ferrari vale anche per lui ossia sette e mezzo e grande torneo di nuovo tra i top tackler tra i migliori placatori della squadra altra partita fare tanta 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 legna però ormai ragazzi sto 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 ragazzo qui Nicolò di legna ne ha fatta così tanta in questo sei nazioni che ci potrebbe costruire non lo so la capanna una capanna ci potrebbe costruire sette e mezzo anche per lui ottimo torneo con numero cinque al fianco di Nicolò c'è ovviamente Federico ehm intanto ha ripreso in mano la rimessa laterale magari forse nel secondo tempo dove se ne sono tirate meno avrebbe avrebbe avuto magari anche qualche altra opzione però diciamo che all'inizio l'opzione era tutte su di me ok fino a che i gallesi non prendono degli aggiustamenti non prendono non si adeguano lanciamole su di me tra l'altro i gallesi non andavano nemmeno troppo a contestarle e ha funzionato bene direi molto bene eh siamo tornati a essere tranquilli in rimessa laterale sì c'è stata una sbavatura ce n'è stata una nel primo tempo una nel secondo tempo ehm sia per il lancio che per altro però insomma la prestazione in rimessa laterale è stata molto buona secondo me per il resto tanti placaggi di Federico ormai come come sempre non ripetiamo il solito discorso del Federico figiano Federico inglese o sudafricano ma tra l'altro c'è anche un turnover un turnover fondamentale quando eh va a forzare anzi due diciamo uno quando va a forzare andando lui a grillo talpare va a forzare un'entrata laterale e un'altra quando sempre lui andando a mettere le mani eh le mani in rack viene pulito prendendolo per il collo e sono due turnover due palle importanti che passano dalla nostra parte in generale tanto tanto lavoro di Federico in questa partita è fatto molto bene per me una prestazione da otto è una prestazione maiuscola col numero sei a proposito di prestazioni maiuscole a proposito di prestazioni maiuscole bene gli hanno contato sedici placaggi però al di là del fatto che secondo me sono di più perché incredibile lo vedevo praticamente veramente in tutti i placaggi ma poi secondo me teniamo presente di una cosa i placaggi di Seb in questa partita valgono doppio valgono doppio perché ognuno è di una pesantezza da carro armato che ti sale sulle costole sulla schiena veramente veramente importante e poi come è stato utilizzato Seb la nuova soluzione tattica ossia Seb che va spesso assieme a Ioane o assieme a Leinag o dall'uno dall'altro lato però lui sempre partendo dal centro a mettere pressione sul ricevitore di pallone sulle palle alte il che vuol dire che si è fatto anche un bel po' di sprint e non è proprio semplicissimo con la sua mole la sua mole corporea ecco di solito si abusa del termine fisico nel rugby lo sapete ci scherzo spesso ma tra carry e difesa Seb in questa partita ha dato una nuova una nuova definizione del termine nove per me la partita di Seb è stato come si dice qua in Spagna un party d'asso veramente nove e qui con il numero sette beh insomma abbiamo questo signore qui abbiamo questo signore qui allora prima di andare nel giudizio vorrei aprire una parentesi questa mattina quando mi sono svegliato ho aperto il gruppo la Moldi Dampat Rugby ed era stato postato un articolo della Gazzetta dello Sport il quale mi ha colpito molto perché in questo articolo si raccontava di come è venuta a mancare subito dopo la partita della Scozia la nonna la nonna di Michele Lamaro questa cosa mi ha colpito per varie ragioni la prima probabilmente è perché Stefania almeno questo era il nome che aveva in all'interno della nostra pagina era un membro della community era era uno di noi era una di noi partecipava spesso alle discussioni aveva delle opinioni molto anche interessanti e sempre comunque pungenti e sempre cercando di capire le cose al di là della facciata e avevo avuto varie vari scambi così rispondendo ai messaggi con lei e tra l'altro un po' più ultimamente mi chiedevo come mai in questo momento non non scrivesse più e questa mattina quando ho letto questo messaggio mi ha questa notizia mi ha veramente 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 colpito e poi ovviamente l'altra ragione per cui mi ha colpito quindi insomma ecco volevo anche prima di passare alla parte giocata di Michele volevo insomma ecco fare questo questo piccolo ricordo per una persona che era un membro importante della comunità del rugby ed era membro anche di questa community proprio membro attivo quindi insomma riposa in pace e poi mi ha colpito ovviamente a pensare a Michele Michele questa cosa non l'ha fatta trasparire nelle nelle dichiarazioni in settimana però immagino che abbia giocato mi sto quasi commuovendo da un lato con un peso nel cuore abbastanza importante immagino l'importanza che aveva questa donna per Michele e dall'altro magari anche con una carica e con una motivazione supplementare e beh ecco volevo aprire e chiudere questa parentesi parliamo di che cosa ha fatto Michele in campo il miglior placatore del torneo più di 100 placaggi ha battuto il record di non mi ricordo chi di non mi ricordo quale hanno però il miglior placatore del torneo ma al di là di questo veramente Michele è uscito fuori da questo sei nazioni nella sua migliore versione possibile leader 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 veramente condottiero dentro e fuori dal campo nella specifica partita ha fatto tra l'altro una partita pazzesca una partita pazzesca ma è ancora più pazzesco come ha gestito tutto quindi come ha gestito questa settimana come ha gestito il gruppo si è visto si è percepito anche noi che non siamo dentro da fuori si percepiscono certe cose dalle parole dai messaggi che arrivano dal body language dei compagni di squadra prima durante dopo la partita come ha gestito la comunicazione come ha gestito i rapporti con la stampa le parole che diceva come ha gestito il filo così importante con il coach si vedeva traspariva una complicità tra il coach tra Gonzalo Quesada e il capitano e tra l'altro fatemelo dire come ha gestito anche il post vittoria focus alla prossima quasi non c'è nemmeno il tempo di festeggiare e dire che magari dopo un turbillon di emozioni così sarebbe stato normale giusto magari sciogliersi in un pianto o in qualcosa del genere ecco tra le tante cose che gli ho sentito dire non ho sentito dalle sue parole ma l'ho letto che avrebbe detto anche sei contento sarò contento quando faremo il grande slam io ripeto riporto qualcosa che ho letto però se lo avesse detto sarebbe veramente incredibile sarebbe veramente incredibile la mentalità da vincitore che Michele Lamaro sta portando all'interno di questo gruppo sicuramente questo sì glielo ho sentito dire ha detto adesso testa bassa si torna nel club c'è altro lavoro da fare poi si tornerà in nazionale pensiamo agli obiettivi pensiamo agli obiettivi un gladiatore un gladiatore un vero capitano e quindi grazie grazie Mich tutto compreso compreso tutto quello che ho detto più la prestazione in campo il voto che mi sento di dare a Michele per questa partita è un dieci dieci tondo 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 qualcuno dirà e la lode allora spero che se Michele mai ascolterà questo video si faccia una risata perché io comunque sono cagacazzi e allora la lode gliela lasciamo per un'altra partita perché anche se come sapete a me gli avanti che calciano mi fanno impazzire diciamo che quella licenza poetica da mediano di mischia con garbisilli che aspettava la palla per farci uscire dalla zona dei nostri cinque ecco forse quella se la poteva risparmiare dieci mince con questa battuta finale e la lode la teniamo per la prossima perché come hai detto tu stesso la partita più importante è quella che deve ancora venire grazie grazie Michele al numero otto sono quasi un po' emozionato dopo aver fatto questo così questo pezzo su Michele dell'amaro al numero otto Cannon Junior e sì perché non sapevamo non sapevamo il soprannome da dare all'ultimo dei Fabulous Five e beh ci ha pensato lui perché sulla maglietta ci aveva scritto Cannon Junior beh insomma è stato veramente un cannone sempre sempre avanzante una potenza sprigionata clamorosa attenzione a quanti placaggi dominanti ha fatto Lorenzo Cannone impatto sulla partita totale dal primo minuto e mi viene da dire ragazzi che se la staffetta e lui è Ross Vincent a otto così facendo in maniera che uno 40 50 minuti e l'altro una mezz'oretta sprigionino entrambi il massimo della del loro potenziale della loro esplosività bene fatemi dire che il classico tanta tanta roba sette e mezzo per Lorenzo Cannone. Al numero nove Stephen Varney era una partita particolare per Stephen dobbiamo capirla Stephen Lorenzo Varney lui italo gallese ed era ovviamente una partita particolare per mille motivi al Millennium Stadium no? E beh lui non si è non si è fatto scalfire lui che aveva ammesso di avere a volte qualche problema a gestire l'emozione invece è riuscito a trovare la concentrazione riuscito a entrare nella partita bello freddo concentrato ha risposto presentissimo quasi perfetto sui calci dalla base sui box kick che sono sua gioia e dolore però più gioia che dolore perché si è vero gliene stoppano ogni tanto qualcuno e anche in questa partita gliene stoppano uno però tutti gli altri sono stati perfetti ragazzi mettetevi voi e provate voi a fare un calcio dalla base con un tempo di volo come quello di Stephen Varney e con la palla che atterra sempre puntualmente o vicino alla linea dell'out o subito fuori dalle 22 provateci fatene due tre di fila e poi mi dite come va e quindi insomma molto molto bravo veloce veloce di pensiero veloce nella gestione del pallone attento anche in fase difensiva tra l'altro si è visto anche voler lottare nel nel breakdown in alcune in alcune occasioni per me anche tenendo così qualche errore c'è stato però anche tenendo conto del coefficiente addizionale di difficoltà per lui gallese per me una partita da sette e mezzo almeno al numero dieci paolo garbisi partita son tuo sa son tuo sa riguardatevela se potete riguardatevela vi consiglio di riguardarvi la partita riguardarvi solamente paolino garbisi in the zone come mai lo abbiamo forse visto fatemi dire che forse è stata una delle partite più belle che ho mai visto giocare a paolo garbisi a livello magari della semifinale del top 14 o a livello di alcune di altre partite wow sia in nazionale che magari nei primi tempi benetton quando lo si vedeva e appunto avevamo quell'effetto wow però questo è un garbisi ovviamente molto più maturo è un garbisi è un garbisi diverso e soprattutto un garbisi che è uscito da un momento di difficoltà anche a montpellier dove non stava giocando benissimo a monigo stesso non ha giocato una grandissima partita quando è venuto con il montpellier magari anche con le sirene di mercato con la in testa il cambiamento eccetera eccetera bene in questa partita era totalmente dentro la partita guardate quanto paolino fosse nella partita lo si capisce secondo me da un dettaglio dopo aver recuperato una palla vagante su quel passaggio di cui parlavo prima basso nicotera menuncello va in mezzo alle gambe paolo garbisi si tuffa per recuperare un pallone e con tutta la pressione dei gallesi addosso su quella racche che si forma sopra di lui lui da sotto il raggruppamento tiene alta la testa e indica e urla a sinistra a sinistra vi consiglio di riascoltarvi la partita se ne avete la possibilità io l'ho ascoltata sia col commento inglese che col commento francese insomma ne vale la pena perché si sentono dei dettagli che ogni tanto non si sentono col commento in italiano insomma lui grida a sinistra quindi in una situazione sotto enorme pressione dove a volte altri magari presentano il pallone coprendosi sparendo un po dal gioco lui era presente era presente anche sopra appunto un treno che li passava sopra lui stava pensando la sua testa stava viaggiando e bravo c'era paolo c'era e c'era e quando c'è si sente scelte di gioco ottime tra l'altro ben eseguiti gli schemi come per esempio il loop che apre poi per la meta di ioane dove nell'andata fa il loop e nel ritorno poi lì nella linea dei cinque e bravissimo a lavorare assieme a monti per prendere quel buco interno in sua scelta di gioco e timing perfetto e e ma non solo per esempio il il gioco aereo di paolo garbisi le prese in aria coraggiose l'abbiamo visto andare su a due mani lo abbiamo visto prendere una copertura sul piede avanzante calcolata perfetta eh ma poi in difesa che partita ha fatto paolino garbisi in difesa che partita ha fatto ehm ciliegina sulla torta il fetching la pescata il grillo talpa chiamatemelo chiamatelo come volete a fine partita quando breaks va a placare insomma tu dici chi c'è un flanker lì che sta facendo quel grillo talpa no un'apertura quando ce ne sono altri che quasi non si vogliono spoccare la maglia 9 9 per paolino garbisi ecco dopo il 10 di mic mi sento di dare un 9 a paolino un 9 a seb e e poi ovviamente ce n'è un altro ci arriviamo ci arriviamo con il numero 11 con il numero 11 prendiamo c'è ovviamente bam monti monti ioane allora un po' abbiamo riso un po' abbiamo scherzato qualcuno mi accusava di essere hater volevo gesi qua e là allora devo fare mia colpa io ammetto sempre quando quando sbaglio qualcosa nelle valutazioni nei giudizi e e lo devo ammettere lo devo ammettere perché mentre l'altra volta ho detto sì ha fatto una gran partita però per me resta sempre quel tipo di giocatore con i suoi aspetti positivi e i suoi aspetti negativi in questa partita ho visto un altro ioane ho visto veramente un giocatore diverso fatemi spiegare in generale ioane non ha fatto un brutto sei nazioni tutt'altro io ho sottolineato come a volte abbia la tendenza ad concentrarsi un po' e a prendere delle scelte un po' sbagliate no però questa è la partita forse più bella che gli ho mai visto fare in carriera meglio di alcune grandi prestazioni in bianco verde meglio della tripletta col giappone a treviso in cui ero allo stadio meglio di cardiff 2022 dove fece una grandissima partita però anche lì per esempio vi ricordate quella palla che non diede a pettinelli e questa volta no questa volta quello che mi ha impressionato è come il suo livello di concentrazione e di lettura della partita sia assurdamente migliorato è incredibile veramente sembrava letteralmente un altro giocatore quando riesce a prendere quel break e poi avere la potenza di riflessi di dare l'offload invece di tenersi il pallone oppure nella meta di pani quel due contro uno giocato da meraviglia alla perfezione rallentando guardando quello che c'è a fianco non pensando solamente alla linea di meta mamma mia allora se monti joane e questo giocatore tutta la vita tutta la vita tutta la vita tra l'altro poi come l'abbiamo sottolineato per per seb anche lui grandissimo lavoro nella la pressione sui calci sui calci alti insomma otto e mezzo otto e mezzo non arriva nove ma otto e mezzo tommy menoncello tommy menoncello allora partita diversa di tommy menoncello però altrettanto importante la sua funzione è stata a volte più invisibile che visibile la sua pericolosità è stata quella di farsi marcare dai gallesi ossia di attirare sempre ovviamente un tasso di attenzione altissimo perché perché ormai non è più una sorpresa ormai tutti sanno che è uno dei giocatori più pericolosi della nazionale italiana e e questo lo porta ovviamente ad aprire degli spazi per sé o per gli altri perché se lo marchi con un giocatore da solo tommy ti sa uscire dal frontale e ti prende sempre la linea del vantaggio e spesso ti rompe la linea se invece vai a raddoppiare ovviamente si aprono degli spazi all'esterno le cose che sanno fare i grandi campioni bello per esempio il break con offload che apre l'azione della prima meta per il resto in in difesa attivo come sempre anche quel pallone tra le gambe e la scelta giusta nicotera gliela gliela passa bassa e lui alla prontezza di riflessi di dire bene qui la scelta giusta è prenderla e passarla indietro in mezzo alle gambe poi non gli viene perfetta garbisi sistema la situazione però la velocità di pensiero e di mani c'è assolutamente allora non una partita da player of the match che ormai quasi lo standard di menoncello e sempre quanto meno nella discussione questa volta no ma una partita da sette e mezzo si con il numero 13 eccolo qua eccolo qua eccolo qua l'altro ovviamente voto altissimo ragazzi io vi giuro che non so più che cosa dire di breaks non so più che cosa dire perché ormai le ripetiamo sempre insomma ogni volta e allora diciamoli solo gracias grazie nacio grazie veramente un 9 un 9 anche per il man of the match due volte su due e basterebbe questo per capire la sua prestazione vabbè qualcosina dobbiamo dirlo e allora diciamo che al campionario di giocate pazzesche ha aggiunto anche un grillo talpa di importanza clamorosa tra l'altro in un'azione dove non c'è neanche il placaggio che lo porta giù c'è c'è una serie di placaggi sbagliati il gallese va giù e lui lo vede da solo quindi non era nemmeno un'azione precostruita dove sapeva che quella era la sua funzione decide veloce va a mettere le mani e si porta a casa il pallone importantissimo adesso ha fatto un sei nazioni della madonna un po di meritato riposo e va bene però poi appelletto a coach bortolarmi un po in bianco verde ce lo fai vedere quest'anno vero perché va bene che fechito ha fechito ha però in campionato nacio ne ha fatta una una quest'anno l'altro giorno sono andato a rivedermi a rivedermi i numeri e diciamo che potrebbe discretamente servire per il fine stagione in coppia con con menoncello avete visto anche proprio il body language di come si conoscono di come ormai si di come si sentono veramente bene l'uno con l'altro no il classico tandem la classica sinergia che fa succedere delle cose speciali 9 9 numero 14 lui sito line allora altra bella partita di luis attenta intanto lui sa un bel record due partite giocate due partite vinte con l'italia nel sei nazioni neanche male in più sto ragazzo secondo me occhio perché c'ha c'ha mette nelle mani e c'ha mette nelle mani anche stavolta ci va vicino quell'intercetto lì dove si fa spuggire la palla toccandola con due mani bravo lui a leggerla un po' meno bravo a non trattenere quel pallone però secondo me luis ci regalerà un bel numero di mette oltre a quello bravo sui palloni alti bravo in difesa bella onesta partita da sette con il numero 15 lorenzo pani lollo pani lollo pani ok non lo faccio non lo faccio più dai tifoso di torino non posso fare cristiano ronaldo va bene comunque per lollo lo faccio allora oltre alla meta però però c'è di più c'è c'è ad esempio il gioco al piede no c'è ad esempio il gioco al piede forse la sua qualità la sua qualità migliore ma c'è anche una bella concentrazione nelle coperture e poi la meta sì la meta perché quella meta è veramente bella ovviamente lui è quello che conclude però insomma non è solo che conclude tra l'altro lorenzo pani se vi ricordate anche nell'under 20 aveva quella caratteristica anche alle zebbre aveva quella caratteristica di avere quella corsa che sembra non sembra che vada velocissimo però non lo prendi però non lo fermi una cosa che c'è un po ogni tanto anche menoncello e per esempio scalabrine dell'under 20 no quella corsa che non è non è elettrica però prende le buone linee di i buoni angoli le buone linee di corsa e comunque ha una punta di velocità molto alta una corsa bella una corsa elegante e lì ti scappa via insomma niente poco di meno che rio d'air tra l'altro a rio d'air li scapperà anche nel primo tempo bella 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 partita di l'olopani che era forse la terza opzione all'estremo dopo all'aneca puozzo sfrutta la sua occasione nel migliore dei modi e ci regala una meta e un grandissimo contributo in una delle partite che ci ricorderemo di più e quindi aspetta un attimo ah mi ero dimenticato di di mettergli il voto beh gli diamo otto all'olopani gli diamo otto Gianmarco Lucchesi non la partita migliore di Giamma e però attenzione perché sarebbe facile dire se in azioni per Lucchesi se Lucchesi ha dato un grandissimo contributo in in praticamente tutte le partite alla nazionale e anche in questa si è vero magari all'occhio ti ti restano quelle due penalità soprattutto quella diciamo più che che fa un po più male e quel placaggio alto subito dopo che avevamo preso la meta però anche lì è per foga per volontà di fare però lì bisogna stare più attenti perché subito dopo aver preso la meta Gianmarco va a fare un placaggio alto facendo risalire il Galles a 20 minuti dalla fine una cosa che avremmo avremmo potuto pagare caro e tra l'altro pochi minuti dopo ripete un'altra penalità anche lì per voglia perché vuole andare a fare una pescata però mette le mani evidentemente a terra e e e lì c'è un'altra un'altra penalità tra l'altro mettendosi anche in zona cartellino per per penalità ripetute insomma sicuramente lì ha avuto un po' di passaggio a vuoto per troppa voglia di fare bene magari in questo momento anche un po' sfasato con il lancio in touch e difatti anche in questa partita una una non va proprio benissimo però per il resto c'ha voglia c'ha voglia Gianmarco e difatti poi in campo aperto tutto il resto compresi una una buona dose di placaggi alcuni eh abbastanza importanti in qualche maniera compensano questi errori e poi quando la squadra funziona insomma eh è anche più facile in qualche maniera a compensare appunto anche delle imperfezioni in generale in una partita così non mi sento di dargli non mi sento di dargli un' insufficienza gli do un sei ecco di più in questa partita no ma un sei se lo porta a casa dopo Gianmarco c'è Spagnolo allora forte Mirko nel portare il pallone dal primo carry ehm in mischia si porta di nuovo via l'avversario alla prima mischia però questa volta Reynal eh Reynal gli fischia contro gli fischia contro dice Reynal ehm a me è piaciuta l'arbitraggio di Reynal eh forse quella è un po' quella che mi ha fatto storcere un po' più il naso però poi rivedendola occhio perché si vede l'amaro che si stacca in effetti e si va a mettere sotto dall'altra parte ehm comunque eh magari meno devastante del solito ma una forse una delle più belle scoperte delle sei nazioni e nella specifica partita comunque non demerita assolutamente sei e mezzo un po' come un po' come tutto quello che ho detto per Spagnolo vale vale anche per Zilocchi compresa quella mischia lì dove sono entrambi che vanno avanti ehm un po' la stessa partita di di Spagnolo sei e mezzo anche per lui Favretto allora Favretto ha fatto pochi minuti pochissimi però insomma in quei pochi minuti ha fatto due placaggi sulla linea di meta salva meta ehm io direi che più che sufficiente per non dargli un senza voto ma dargli un sei e mezzo eccolo qui Ross Vincent esce Lorenzo Cannone ed entra questo ragazzo e quel recupero al sessantacinquesimo è clamoroso clamoroso di nuovo come l'altra volta gran accelerazione gran accelerazione e e va a prendere un e va a prendere Thomas Williams che era lanciato verso meta tra l'altro poi facendolo anche uscire perché nel placaggio si fa male ehm in generale comunque entra e impatta eh placa tantissimo placa come un forsenato porta palla prendendo sempre la linea del vantaggio eh incredibile incredibile sto ragazzo il è appena arrivato appena iniziato a giocare a rugby eh a livello professionistico e solo l'anno scorso c'erano delle voci che dicevano ah è indeciso se continuare a studiare o se adesso uno dei migliori del sei nazioni incredibile eh sette e mezzo sette e mezzo che scoperta Ross Vincent di questo torneo eh Zuliani eh Zuliani non dirmi che non ho la non dirmi che ho dov'è finito Zuliani ah no vabbè allora restiamo su Ross Vincent ma vi parlo anche di Zuliani scusa ho saltato una diapositiva comunque ovviamente c'è Zuliani ehm dopo il recupero a proposito di Ross dopo il recupero di Ross arriva il fetch di Manuel Zuliani e beh insomma ci chiedevamo ma chi dei due se dovessimo scegliere beh risposta easy tutti e due tutti e due e fatemi dire che probabilmente la premiata ditta eh Ross eh Ross e in Zuzu ci potrebbe far saltare dalle sedie dai divani da dove vi trovate mentre guardate le partite più e più volte nei prossimi anni aspetta quanti nei prossimi quanti anni quindici nei prossimi quindici anni sette e mezzo Marton Marton Pagrelo allora sbaglia il primo passaggio entra un po' con voglia di fare però non si capisce benissimo con i suoi avanti eccetera ehm poi va detto che non lo possiamo giudicare troppo sull'azione offensiva perché quando in campo lui praticamente l'Italia non attacca ehm e difende l'Italia difende tanto in quel momento lì e lui fa un paio di placaggi precisi ed importanti e e e soprattutto poi mette quel calcio lì no? Mette quel calcio lì da metà campo ehm che che diciamo evento che fa passare la sua prestazione da un sei e mezzo a un sette sette per Martín Pagrelo e infine Leonardo Marin allora senza voto stavolta non gli posso dare il voto perché veramente non tocca palla e non lo e non si vede e non lo e non si vede difensivamente ehm entra nel finale per Ioane e quindi entra però raga gli diamo l'aggettivo di talismano perché prima dicevamo di di Luis Leinag due su due ma le Leonardo Marin ultime cinque partite in nazionale due vittorie a Cardiff un pareggio in Francia a Lille una vittoria anche quella in trasferta in Portogallo e una vittoria con la Scozia a Roma quindi insomma abbiamo quattro vittorie un pareggio di cui quattro in trasferta e una in casa neanche male neanche male pensando che alla nazionale italiana io nel dubbio lo porterei anche solo per scaramanzia no a parte gli scherzi sappiamo benissimo quali sono le qualità e quanto importante anche solo il sapere di averlo lì pronto a entrare eh a qualsiasi evenienza e pronto a coprire qualsiasi cosa gli si chieda di fare grande Leo ragazzi è finito l'ultimo pagellone ehm fatemi ringraziarvi adesso stasettimana parleremo comunque tanto ancora di questa partita parleremo ancora tanto del sei nazioni e allora prima di chiudere fatemi ricordare oggi ricordo NordVPN NordVPN è uno dei partner del canale eh sotto in descrizione trovate il codice sconto se avete bisogno di una VPN per le varie necessità per le quali si può usare sul web dalla cyber security a guardare ehm trasmissioni quando siete per esempio all'estero ehm alle tante cose per cui si utilizza una VPN controllare non lo so i prezzi dei voli da un paese guardare le serie di Netflix che non avete nel che non avete nel paese dove vi trovate eccetera 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 insomma sapete benissimo ci sono veramente tante ragioni per farsi una VPN e NordVPN è sicuramente ehm una delle migliori e soprattutto quella che dà fiducia a questo canale e a tanti altri content creator insomma basterebbe solo questa per per farcela stare simpatica sotto in descrizione trovate il codice sconto per il resto fischio finale un grande grandissimo bacio domani esce un recap su tutto il torneo e la sera il terzo tempo del martedì ciao oh ragazzi se in azioni non è finito eh come non è finito è finito quello maschile ma inizia quello femminile mi raccomando ciao Grazie a tutti.